Volkswagen ha annunciato lunedì di stare valutando la chiusura di stabilimenti in Germania a causa delle difficoltà dell'azienda e del settore automobilistico. Sarebbe la prima chiusura in casa in 87 anni di storia da parte del gruppo tedesco che comprende altri marchi come Audi e Porsche, Seat e Skoda. A Wolfsburg, sede centrale del gigante dell'auto, i dipendenti sono stati colti di sorpresa. Il ritardo sull'elettrico, la concorrenza cinese e l'economia tedesca in recessione hanno già fatto perdere in borsa a Volkswagen un terzo del suo valore. Volkswagen non ha specificato quanti dei suoi circa 300.000 dipendenti in Germania, sono quasi 700.000 nel mondo, potrebbero essere licenziati.